Perchè mi chiedi? Io non ho, ma sarei inanato di quasi, e poi che temi, tranquillo di mia vita, a me tocco la botta delle peppa, non me lo crede? No! E' entrato, vieni qui, scoccati, ammazzi, fa tutto di me quel che ti piace, ma poi ma sento tutto, ma voli a farci. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.